a quanti anni a quale età dobbiamo dare il telefono ai nostri figli i nostri ragazzi e giovani questa qua è una domanda che mi fanno spessissimo e che mi hanno fatto spesso in questi anni durante il mio peregrinare per quello che riguarda l'educazione civica digitale vi dico la verità sacrosanta una risposta precisa e giusta non c'è non perché io non la sappia perché non esiste non esiste uno storico su questo tipo di contenuto non esiste uno storico sull'educazione civica digitale così come non esiste uno storico sul quando dare il telefono ai ragazzi perché quando eravamo giovani noi i telefoni non c'erano quindi non esisteva questo problema non esiste un percorso un protocollo educativo detto questo è anche vero che cominciamo a capire che questi dispositivi hanno un potere straordinario enorme da un certo punto di vista così come cominciamo a capire che questi dispositivi hanno anche danno anche delle libertà che noi in qualche modo quando eravamo giovani non avevamo queste libertà vanno disciplinate la libertà deve essere disciplinata perché sennò diventa un casino da gestire nell'esperienza che ho avuto in questi mesi con con i ragazzi con i genitori eccetera non visti migliaia non visti 400 anche la settimana scorsa ho capito da quello che mi hanno raccontato i genitori quelle che potrebbero essere delle linee guida sono linee guida esperienziali non necessariamente giusto o sbagliato però vi dico quelle che secondo me sono le cose più sagge allora partiamo tanto dal presupposto che dare il telefono in mano a un ragazzino che ha otto anni sette anni fa la comunione per capirci come regalo comunione cresima è qualcosa che secondo me e secondo molti altri non è corretto per un semplice motivo è come dare in mano una pistola a un ragazzino è un potere enorme è un potere enorme che se non è appunto se non sia un background un culturale di un certo tipo non si riesce a gestire quindi troppo presto non va sicuramente bene il problema è quando alle elementari forse è troppo presto ma spesso alle medie a 11 12 anni si dà il telefono ai ragazzini io non penso sia sbagliato penso che il problema stia nel fatto che il genitore dice ma tutti gli altri ce l'hanno e quindi glielo do ho visto genitori molti spesso organizzarsi per dare il telefono ai propri figli nella stessa classe nello stesso momento quindi creare dei gruppi whatsapp e dire non gli diamo tutti il telefono fino a quando non avranno compiuto 11 anni o fino a quando non andranno in prima media quindi l'organizzazione da parte dei genitori è fondamentale in quest'ottica poi è ovvio che se qualcuno glielo dà prima non gli si può impedire però è anche vero che noi ci dobbiamo disciplinare e dobbiamo disciplinare i nostri figli per fargli capire che non si può avere tutto subito e una volta in cui ce l'hanno non è vero che non dobbiamo controllarlo abbiamo secondo me il diritto di controllarlo mio papà aveva il diritto di venire a vedere dove andavo a giocare a calcio il pomeriggio perché noi non possiamo vedere che cosa fanno i nostri figli non è una violazione della privacy è la necessità di educarli a fare qualcosa in un modo coerente corretto e noi abbiamo questa responsabilità loro non possono da soli imparare dobbiamo essere noi di insegnargli e poi c'è un'altra cosa importante che il telefono va usato nei tempi e nei modi corretti noi per primi dobbiamo dare l'esempio non dobbiamo essere quelli che hanno il telefono costantemente in mano e che quindi passiamo con il nostro esempio un messaggio sbagliato ovvero visto che mio papà e mia mamma ce l'hanno sempre in mano lo posso tenere in mano sempre anch'io non è così che funziona noi dobbiamo in qualche modo abbandonarlo a parlare con queste creature lasciarlo un pochino di più sul tavolo e spiegare loro che il telefono va utilizzato un tot numero di ore al giorno fino a una certa ora bisogna disciplinarli perché il messaggio che bisogna passare è molto semplice ovvero la tecnologia il telefono i dati le informazioni questo contatto digitale è una risorsa finita come l'acqua il cibo la corrente sono risorse finite in quanto tali bisogna organizzarle se si fanno i compiti non si possono fare con il telefono di fianco perché il telefono è una ponte di distrazione così come non si può dire appena hai finito di fare i compiti prendi il telefono perché allora il ragazzino fa i compiti molto più in fretta per poter prendere il telefono in realtà secondo me bisogna dare dei momenti in cui si possono fare delle cose momenti in cui non si può per esempio spesso mi è capitato di sentir dire dalle 2 di pomeriggio alle 8 di sera non usi il telefono perché quello lì è il momento in cui tu devi fare altre cose le altre cose quali sono sono i compiti sono interfacciarti con le altre persone sono fare una torta di mele con tua nonna non importa che cosa il punto è che tu devi capire che quella lì non è una fonte illimitata a cui tu puoi attingere poi crescendo ovviamente lo potrai fare anche di più ma non è questo il punto lo farai in maniera responsabile quindi non c'è un'età precisa in cui fare qualcosa quello che è importante capire da parte nostra di adulti sono due punti sostanziali il primo è che noi insegniamo attraverso l'esempio se il nostro esempio è positivo noi allora siamo in grado di passare loro qualcosa se il nostro esempio è negativo abbiamo costantemente il telefono in mano non possiamo dire loro di non farlo quando siamo i primi a farlo il secondo punto è che dobbiamo pensare che queste sono risorse limitate in quanto tali dare a loro dei tempi e dei modi per utilizzarli non sempre quello che voglio perché sennò passa il messaggio che nel mondo e nella vita e di tutti i giorni c'è il sempre quello che voglio spero di essere stato chiaro e di esservi stato in qualche modo utile rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll